Hai ragione forse, ma che scelta avevamo? Gli uomini si possono combattere, ma questo essere non fa parte della nostra razza. La nebbia gli è amica la notte e sua alleata. Conoscerai senza dubbio le antiche storie. Sai cosa si narra a proposito di queste creature? Così è, infatti. Molti prodi l'hanno sperimentato a loro spese, provando ad uccidere quel mostro quando prese a farsi troppo avido. Ma sulle prime lo secondammo pensando di garantirci la pace. Qualche montone, due o tre pecore, alcuni maiali. Non ci sembrava un prezzo troppo alto all'inizio. Sei qui da qualche giorno. Hai visto da te che luogo dolce e buono sia questa. La terra è fertile come il ventre di Freya. Le coste sono vicine e la bella stagione è generosa. Le donne restano gravide, quasi senza accoppiarsi, e i bambini crescono sani e vigorosi. Anche l'accordo con un mostro sembrava cosa saggia, in cambio di tutto questo. Grazie. 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 Grazie.